A parterebbe ad un cittadino canadese il cadavere rinvenuto in Burkina Faso mercoledì sera. La notizia del ritrovamento del corpo di un uomo bianco a Siega nel nord del paese africano aveva drammaticamente rotto l'angosciante attesa di notizie che scandisce le settimane da quel 16 dicembre, data dell'ultima comunicazione di Luca Tacchetto con la famiglia, prima della scomparsa assieme alla sua compagna di viaggio canadese Edith Blaise. Il timore che il corpo potesse essere quello del figlio dell'ex sindaco di Vigonza aveva fatto allertare subito l'unità di crisi della Farnesina per compiere le necessarie verifiche in concerto con le autorità locali, verifiche che avrebbero identificato un cittadino canadese. Tra i paesi più poveri del mondo il Burkina Faso vive in alcune zone una preoccupante instabilità a causa di bande armate, anche di matrice islamica, che hanno spesso nel mirino cittadini occidentali. Immune fino a qualche tempo fa da certi fenomeni, il Burkina Faso è da qualche anno caratterizzato dalla presenza di milizie jihadiste che lo hanno reso un paese a forte rischio sicurezza.